Continua la serata al Barahonda Disco Club di Milano e adesso abbiamo l'onore di essere in compagnia di una delle più grandi star di questo mondo che ogni volta ci ha deliziato e stupito con i suoi spettacoli Deborah Princess Ciao Glamour, è un piacere di stare con voi da Piccoli Magazine ancora nella serata di Halloween 2021 Anche questa sera farai uno spettacolo, giusto? Sì, oggi farò la performance dell'onore di Medusa Ok, Medusa, quindi vedremo qualcosa di particolare Trasformata in serpente grazie al trucco di Bruna Diva do Fumet e Carpartner Ha ideizzato questo trucco Deborah, ma ci hai parlato di un vestito Medusa L'abito da chi viene, chi l'ha ideato, chi l'ha pensato? È stato realizzato di Brenda Pondé Che è una fabulosa stilista da Brescia, brasiliana da Bahia E meravigliosa ragazzi, vedrete Sicuramente splenderai anche con quest'abito Grazie a Piccoli Magazine Grazie a tutti